Nel video precedente abbiamo visto come utilizzare la classe HTTP Client per scaricare un file di testo, un page del mio sito, un file testuale e questa volta voglio mostrarvi come fare la stessa cosa con un file binario, ho scelto un PDF ma poteva essere un qualunque altro tipo di file nel metodo richiamato dal main andiamo come al solito a distanziare un oggetto di tipo HTTP Client e invece di usare il getString come l'altra volta il più generico getAsync e questo metodo fornendo l'URI da cui prelevare la risorsa restituisce un oggetto di tipo HTTP ResponseMessage, questo risposta server, che espone la property content fornita di un praticissimo metodo copyToAsync che come parametro richiede un file stream, ecco perché ho istanziato qua un oggetto file stream, modalità distruttiva ed è anche comodo per fare un po' di prove l'una di fila all'altra distruggendo un eventuale precedente file con lo stesso nome in quella posizione il messaggio al termine e forse qualcuno starà pensando, ecco la vecchiaia ha dimenticato come al solito la sincronizzazione con il manual reset event come abbiamo fatto fino all'ultimo video, mi ho voluto almeno questa volta sfruttare appieno le possibilità del C Sharp 8 sì in realtà questa caratteristica è disponibile fin dalla 7.1 se non ricordo male questa volta è il main stesso che si mette in modalità attesa await e quindi aspetta che davvero il metodo richiamato termini e per poter usare qua nel main await è necessario rendere async il main stesso ma fargli anche restituire un task invece di void a dimostrazione che non può capitare dopo essere ritornati da questo comando che il controllo ritorni subito al main saltando la stampa forzo un'attesa inequivocabile cioè che darebbe 100 volte il tempo al main di riprendere il controllo 5 secondi ma come vedrete comunque il main è in await e aspetta controllino nella cartella net 5 debug beh ormai lo sapete per assicurarci che il pdf sia stato effettivamente scaricato e lo è passiamo adesso dal download dei dati all'upload commento quindi la chiamata appena sperimentata aggiungendo per il momento nel main il codice necessario a gestire due situazioni tipiche da upload inviare dati a una form cioè come se stessimo compilando una form html che al clic sul bottone submit invia i dati a una pagina io ho scelto una pagina php ovviamente non è un obbligo che sia questo linguaggio che poi dovrà ricevere questi dati elaborarli registrarli in un database quello che volete poi come caso particolare ma molto comune l'upload di un file binario io ho scelto l'upload classico di un'immagine ma lo vediamo dopo il codice infatti lo vedete sotto nel main è ancora commentato per il momento il dialogo tra client e server sposta nelle due direzioni contenuto http ecco perché esiste la classe http content per dichiarare le variabili in ingresso e uscita il metodo upload dati form che poi andiamo ad esaminare e sul cui ci mettiamo in attesa qui nel main restituirà un http content risposta server questo lo potremo consumare con dei metodi tipo il read cioè consuma estrai dati dal content ricevuto in forma di stringa e asincronicamente adesso per poter davvero sperimentare o vi affidate a un server reale online e lì i parametri li avete voi oppure con una classica installazione di uno stack locale tipo l'oxamp ma non esiste solo questo ovviamente e ho predisposto nella cartella pubblica che contiene i siti gestiti dal server locale cartella php dentro un'altra cartella test upload yt mi raccomando sull'oxamp dentro la cartella htdocs questa è la pagina che andremo a richiamare tra qualche minuto nel metodo upload dati form le altre le vediamo dopo servono per l'upload dell'immagine ecco la pagina form php sto simulando come se esistesse una form html con due campi di input due input type text per intenderci uno il cui nome sarebbe idarticolo e l'altro descrizione cioè per intenderci come se avessimo scritto una pagina contenente una form html così il nostro metodo simulerà l'azione che verrebbe inescata al click dicevo prima sul bottone di submit inviando come se l'avessi inseriti manualmente in utente i dati che andremo a indicare nel metodo andiamo allora a vedere questo upload dati form abbastanza semplice tutto sommato gli facciamo restituire come tipo di dato un http content così poi il main ci fa quello che vuole con la risposta del server risposta che naturalmente sarà semplicemente una stringa dati ricevuti ad articolo eccetera eccetera sto dando per scontato che mastichiate un po' di php diversamente non sareste neppure interessati a questa parte beh serve la solita variabile http client per inviare i dati di post si prepara prima un dictionary in cui vengono inserite qua l'ho fatto direttamente tutte le coppie nome campo valore campo e di articolo descrizione e altre non c'è sostanzialmente limite questi valori vanno poi formattati usando questo struttore che crea un oggetto form url encoding content i dati della form pronti per essere spediti cosa che avviene qui sotto ci mettiamo in attesa della risposta del server alla nostra richiesta di post di dati la richiesta è fatta sul metodo post async del client oggetto creato prima l'htp client i parametri sono scontati la uri la destinazione la nostra form e php e i dati questo metodo ha lo scopo di sollevare un'eccezione nel caso vi fosse un errore cioè la risposta del server codificata indicasse che è capitato qualcosa di poco carino tipo che la pagina non è stata trovata poi magari simuliamo se l'eccezione non viene sollevata avremo la restituzione di ciò che il server avrà inserito come output il nostro eco della pagina php questo content è poi catturato qua nel main si diceva estratto come stringa e stampato proviamo eh sì ma avendo inserito questo come commento cosa che ne ho fatto in prima battuta poi nell'output c'è anche quello sostanzialmente però sono questi i dati ricevuti i di articolo e descrizione che corrispondono mi fermo perché nella parte upload dell'immagine ho un errorino che mi sta tormentando ho bisogno di essere fresco per ragionarci sopra ma già con questa parte avete a disposizione uno strumento piuttosto potente per automatizzare molte operazioni a livello del vostro sito in pratica abbiamo già copiato lo user agent cioè l'entità che chiede il post dall'operazione post stessa che sia un umano che sia un altro programma non fa differenza ma qui sta anche il rischio perché potreste essere bombardati di false richieste giusto ecco perché conviene poi abbinare un meccanismo minimo di autenticazione potreste prevedere non so un campo hidden con dentro un passcode cose di questo tipo poi ovvio che c'è tutta una serie di metodi più sofisticati però non ho intenzione qua di approfondirli non mi rimane allora come al solito che salutare con un a risentirci